Buonasera Abruzzo, dal capologo le notizie di giovedì 24 settembre dall'Aquila e dalla regione. Scuola L'Aquila, colle sapone riparte, mascherine e aule senza banchi. Ezio Stati, in politica è finita la ricreazione. L'Aquila, deceduta la donna investita in zona Torrione. Alessandro Aquilio, Sanofi sceglie un aquilano come nuovo direttore della comunicazione. A rischia, inaugurata la scuola della rinascita. Per tutte le altre notizie www.elcapoluogo.it Dal capoluogo, buona serata.